Alcune ore fa, nella casa del grande fratello, Jessica Morlacchi ha confessato di avere una cotta per Luca Giglioli detto, Giglio. La cantante, infatti, si è confidata con alcune coinquiline palesando il suo interesse per il parrucchiere romagnolo. Mi piace Giglio, è molto sensibile e questo mi manda fuori di testa ha detto la cantante confidandosi con alcune amiche. Prima me lo spupazzavo perché me lo vedevo come un fratellino, ora sono due giorni che tengo le distanze. Lui ha detto che fuori ha lasciato una cosa aperta, non ha detto di essere innamorato o che quella fuori è la sua fidanzata. In seguito, Lorenzo Spolverato, che aveva notato l'interesse di Jessica nei confronti di Luca, ha suggerito a quest'ultimo di stare al gioco e di approfittare della situazione. Lei è molto forte, qui è forte. Se tu, allora puoi fare un bel percorso qui. Ogni tanto qualcosina, per arrivare e capire cose. Non te ne deve fregare, tu sei troppo bravo. Tuttavia, Giglio ha preferito non seguire il suggerimento di Lorenzo e, parlando con Jessica, ha spiegato alla cantante di non ricambiare il suo interesse. Sei una persona con cui ho legato molto, molto affine, ma non voglio che i miei gesti siano passati per chissà che cosa. Volevo chiarire con te, non sei tu il problema, ma tutto il contesto che è stato creato che a me non è piaciuto.